Ciao, ma ti sei già preparando al Natale? Certo, mica voglio pensarci gli ultimi 5 minuti! Ah, ok, allora, te lo chiedo subito, c'è qualcosa che vorresti per Natale? Sì, vorrei mangiare tante cose buone, senza diventare io un cochechino! Ciao amici, lo sappiamo tutti, Natale è il periodo peggiore per la linea e restare in forma nonostante tutte le tentazioni è una bella sfida ma a me piacciono le sfide, soprattutto vincerle e per vincere serve una strategia, come dice il famoso filosofo oceanico Shark Zoo e volete sapere così subito qual è la mia strategia infallibile per vincere? è semplice, niente di complicato, basta procurarsi gli strumenti giusti sì, ma questo lo sanno fare tutti sì, ma io ho un segreto per vincere davvero se volete sapere qual è, mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace, tanti nuovi video ecco il mio segreto questi strumenti devono anche darci piacere essere divertenti, buoni, appassionanti mica farci soffrire o frustrarci altrimenti, ma chi arriva fino in fondo? ma chi ha voglia di soffrire per stare in forma? ah, io no, di certo, appunto, ma nemmeno io e nemmeno la Foodspring che sponsorizza il video di oggi per restare in forma e divertirsi ha creato questa box calendario dell'avvento 24 giorni di sorprese, ricette, programmi di dimagrimento per raggiungere i migliori obiettivi di forma fisica è la sfida trendy e sana di questo Natale e non ce n'è solo uno, ce ne sono due di calendari dell'avvento diversi per scegliere in base ai vostri gusti uno per chi vuole arrivare a Natale con più muscoli fare una bellissima figura per il nuovo anno che viene ed essere muscoloso, tonico e pieno di energia l'altra box per chi vuole restare in linea e dimagrire così arriva a Natale in forma e se sgarra un po' nel periodo saprà come rientrare in carreggiata con i prodotti giusti quasi un peccato dover scegliere già, ecco cosa contiene ogni box 24 scatolette numerate da gustare ogni giorno con tanti prodotti premium per la forma fisica uno al giorno squisiti frullati, barrette, snack prodotti speciali in esclusiva per il Natale e poi questa pratica guida piena di contenuti esclusivi iscritti qui e con i link da trovare sul sito cosa sono? ogni giorno ti colleghi e segui in video i training dei coach della foodspring i coach sono bravissimi e ti aiutano a raggiungere gli obiettivi in 24 giorni con i giusti allenamenti e tante ricette sane e golose ma io non ho tempo di allenarmi ma neanch'io questi sono training salvatempo 12 minuti al giorno così poi ci possiamo concentrare sui regali di Natale senza aggiungere altro stress e se ne salti uno perché non ce la fai puoi recuperare l'allenamento il giorno dopo l'importante è non perdere il ritmo è bellissimo tenere conto dei giorni che ci separano al Natale con tante delizie trendy e sane giorno dopo giorno più dolce è l'attesa più magico sarà il Natale e può essere anche un Natale fortunato perché ci sono in palio nelle box delle mystery card d'oro con un valore di acquisto fino a 200 euro e non è finita qui in ogni box comunque si trova un buono acquisto da 5 euro e grazie foodspring se ordinate il vostro calendario dell'avvento con il codice sconto Vignali piccolo YT grande avrete anche il 15% di sconto quale regalo migliore per noi stessi e per gli altri per vedere altri video con i prodotti migliori del mio sponsor foodspring o su altri prodotti naturali è facile basta iscriversi al canale con un click così e attivate la campanella delle notifiche per essere avvisati ogni volta che esce un nuovo video cioè ogni giorno ora condividete questo video con i vostri amici così anche loro potranno vincere la sfida per un Natale con più muscoli e più forma e magari fare un regalo trendy e sano noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo ancora più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente ciao ti colleghi e segui e fare una bella scusi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti